Ciao a tutti e grazie per me qui in questo nuovo video, io sono Michael e volevo dirvi che verso le 8 uscirà la nuova presentazione su YouTube, se mi seguite e mettete un bel cuore in su così almeno per vedere se mi piace la mia presentazione e niente e cominciamo ecco a far cosa scusate un male fastidioso del computer c'è la pubblicità e quindi Ok, cominciamo Cos'è? 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 veramente allucinato ma pensa qua che canta che no sto pentendomi di essere andato in comunità disintossicato quasi quasi ricomincio a fare un'altra ma no ma perché ma di fuori ma cosa sta dicendo ma non si capisce niente ma non si capisce niente guardate che si vuole suicidare no che lei sta stroncando un giorno artista in erba l'erba che mamma e papà gli mettono la mattina come tisana prima di portarlo a scuola questo è uno dei grandi moderni in periodo di purghi ma ascoltare i figli di idronomo esatto l'unico motivo è questo il problema è che poi dobbiamo ascoltarli noi e questo è il problema vivere a colore vivere a colore vivere a colore vabbè non riesci una carta in un senso io no è importante vivere a colore non ti scusiamo ci accontentiamo di quello che hai appena fatto poi questi accuti sono da cantante professionista professionismo allo stato puro io credo che si potrebbe segnalare a un famoso programma gli amici di mia zia ha un potenziale la buona finisce qui per oggi a me è male allora io ho tutti già la presentazione su youtube ma non mancate e mi raccomando mi voglio bene mi amo io ti odio Anna Most questo è un beccino non fate cazzo a quelli che mi sugeranno tanto non li ascolto un bacio ciao va bene va bene grazie non l'ascolta nemmeno lui eh sì infatti è veramente triste questo fatto mamma mia allora io voglio allora voglio che un'ascoltatore o l'ascoltatrice c'era dia un titolo a questo video a questo video perché merita 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 perché è giusto così aspetta ma basta tutto la dobbiamo sentire chiama la zia chiama la zia mi scrivono va bene no no e chi manca va benissimo benissimo va bene